Ha portato delle calte. Quindi siete state brave? Sì. L'hai aspettata stanotte o ti sei addormentato? Mi sono addormentato. Però lei è arrivata lo stesso? Sì, è arrivata lo stesso. E anche la Befana è per sua politica. Se stanotte qualcuno per qualche ragione magari se l'è persa, Cascina ha potuto recuperare. Parliamo della Befana, che nel comune della provincia pisana è arrivata, come ormai da tradizione, con un paracadute, quello dell'esercito italiano. Com'è andato il lancio? Molto bene. Hai visto quanta gente qui per lei? Grazie, ringrazio tutti di cuore. A precedere l'arrivo della vecchia signora c'erano stati i suoi colleghi, muniti di un'enorme bandiera tricolore e di un vessillo del comune. Da quasi Pisano è un piacere saltare su questa città. Questa si prova quando si arriva a un momento dal tappeto? La concentrazione è massima. La concentrazione è massima perché ogni piccola distrazione può portare a un errore. Quindi concentrazione è massima, una volta atterrati si gode dell'accoglienza. Si rinsalda così il legame tra Cascina e la Brigata Folgore. La Brigata Folgore ha diverse caserme sul territorio. Tantissimi paracadutisti abitano a Cascina, quindi c'è un legame strettissimo tra la Brigata, quindi Punta di Diamante dell'esercito italiano e la città di Cascina. Ma lo spettacolo è poi proseguito dall'altra parte di Corso Matteotti quando a chiudere la festa, dalla Torre Civica, è spuntata di nuovo lei, informato stavolta a Vigili del Fuoco, chiusura affidata allo spettacolo pirotecnico. Non mi ha sentito, fate la cittura! Ora ci siamo!